Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordoceche. La Lega del Filodoro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce, può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filodoro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00. Grazie.